Buonasera a tutti. Anche questa sera sono riuscita ad avere ospite per la trasmissione la nostra pediatra di zona, la dottoressa Paola Bisio, che ci dirà delle cose molto interessanti sul sistema immunitario legato al bambino e al covid. Ritengo di passare velocemente la parola alla dottoressa. Allora ci si chiede perché i bambini si ammalino meno di covid rispetto all'adulto. Sono stati fatti degli studi ed è stato visto che questo può essere spiegato con la differenza, il differente modo di reazione del sistema immunitario. È proprio la diversa modalità di reazione di fronte al virus. Mentre nel bambino si attiva un'immunità di tipo a specifica, nell'adulto parte un'immunità di tipo specifico. Quella specifica è quella che abbiamo i primi anni di vita, è proprio dei primi anni della nostra infanzia. Quando non veniamo a contatto ancora con i virus e i batteri, appena noi li contattiamo, parte questo tipo di immunità che poi nel tempo si trasforma in un'immunità di tipo secondario, di tipo specifico, che è quella più tipica dell'adulto, perché ormai il nostro corpo va a riconoscere certi virus e certi batteri. Quindi è stato visto che questo tipo di immunità del bambino dà meno danni, cioè gli permette di rispondere meglio alla malattia. Un altro motivo di differenza tra una rinforza immunitaria e l'altra del bambino e dell'adulto è stato visto che nel bambino il virus per entrare ha bisogno di un determinato sito che si chiama ACE2 e il bambino ha meno, questi siti sono meno evidenti, per cui riesce a penetrare meno bene nella cellula. Ecco perché il bambino si ammala meno. Poi il bambino, un altro motivo, ha più le vaccinazioni fresche. Continuando a vaccinare i bambini secondo il vario protocollo vaccinale, il bambino ha un'immunità più pronta, è abituato a rispondere subito. Anche questo è un altro motivo che permette al suo sistema immunitario di rispondere più prontamente. Quindi abbiamo visto che l'immunità è molto importante e stimolare il sistema immunitario è fondamentale. Non esistono integratori che non ci fanno ammalare di covid, però esistono integratori che ci possono aiutare ad essere appunto più attivi nella nostra risposta. Poi in questo caso ognuno dovrà contattare il proprio medico, la farmacista, per sapere quali sono i prodotti da utilizzare. Però ecco, sono aspetti importanti da tenere presente. Certo, la dottoressa come avete visto ha sottolineato come è importante la protezione nei bambini e la differenza tra bambino e adulto. Logicamente fatevi sempre consigliare dal vostro medico, pediatra o farmacista di fiducia la vostra terapia appropriata in modo da avere una cosa personalizzata per la vostra persona. Salutiamo la dottoressa Bisio, arrivederci, buona serata.